ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi parleremo di manga usati come avete visto dai miei video acquisti anche io acquisto moltissimi manga usati e mi sono sempre trovato veramente bene oggi vi andrò a dare quelli che sono dei piccoli consigli che possono essere molto utili per risparmiare o per trovare magari qualche offerta sono tutti dei piccoli accorgimenti che soprattutto negli ultimi anni mi hanno aiutato moltissimo anche nel cercare qualche serie vintage serie difficili da trovare attualmente sul mercato o comunque difficili da reperire spero che questo video vi possa essere utile e prima di iniziare vi ricordo ovviamente che quando acquistate dall'usato state sempre attenti a ciò che acquistate fatevi sempre mandare delle foto del prodotto in questo caso noi stiamo parlando di manga mi raccomando fatevi sempre mandare la foto delle condizioni per non aver nessun tipo di problema controllate ovviamente che il venditore sia affidabile e che abbia anche un buon punteggio per quanto riguarda le recensioni iniziamo dal primo consiglio che riguarda principalmente vinted ebay subito e il marketplace di facebook ed è scrivere direttamente il nome dell'autore o il target di appartenenza questo è un piccolo accorgimento che mi è risultato veramente importantissimo spesso io andavo a cercare i manga utilizzando solamente il nome dell'opera in questione utilizzando invece il nome dell'autore abbiamo correlati tutti i manga abbiamo infatti tantissimi annunci che compaiono relativi a quell'autore in particolare può essere anche molto utile se state cercando più opere dello stesso autore così vi potete fare anche un'idea generale risulta fondamentale per quel tipo di annunci dove non viene espressamente scritto il nome del manga perché fidatevi che tante volte non viene scritto risulta importante anche quando c'è qualche tipo di errore di battitura utilissimo anche per confrontare i vari annunci infatti alcuni manga potrebbero essere messi a prezzi più alti mentre invece alcuni a prezzi più bassi quindi si può anche benissimo risparmiare stessa cosa vale anche scrivendo il target d'appartenenza ad esempio shoujo shonen seinen o josei anche questa è una tecnica che utilizzo moltissimo soprattutto perché vi compaiono i manga di solamente quel target in questione se infatti volete approfondire qualche target o volete approcciarvi può essere una buonissima idea questo risulta molto efficace soprattutto su vinted dove ci sono davvero tantissimi annunci relativi ai target perché spesso nella descrizione del prodotto magari viene utilizzata la parola shonen la parola shoujo e quindi scrivendolo possono capitarvi anche quel tipo di titoli entrambi molto efficaci vi consiglio di utilizzarli soprattutto su vinted e su subito dove si possono davvero trovare quelle che sono le maggiori offerte il secondo consiglio invece riguardante solamente a vinted ed è utilizzare gli sconti dei set e i consigliati per te semplicemente gli sconti sui set possono essere un'arma potentissima perché il venditore in questo caso vi dà uno sconto che può essere dal 10% fino al massimo del 50% se si acquistano più prodotti dallo stesso venditore io utilizzando gli sconti su set ho davvero risparmiato tantissimo e ho trovato dallo stesso venditore un sacco di opere quindi la cosa importante se trovate un manga a un buon prezzo guardate sempre all'interno del profilo del venditore perché potrebbe esserci uno sconto attivo spesso vengono attivati da chi cerca di svendere i propri prodotti quindi se vedete un manga venduto ad un prezzo che è relativamente basso controllate sempre che ci sia magari uno sconto perché potrebbe esserci tra tutti questo è il miglior modo in assoluto per andare a risparmiare invece per quanto riguarda i consigliati per te è un'altra opportunità che ci mette vinted dove ci compariranno nella prima schermata tutti i prodotti relativi a ciò che abbiamo cercato si rifà soprattutto alle ultime ricerche o se state cercando un qualcosa in generale quindi consiglio sempre di dare un'occhiata ai consigliati per te perché oltre a essere molto vantaggioso all'interno vengono messi anche gli ultimissimi annunci quindi consiglio anche sempre di ricaricare per quanto riguarda invece il terzo consiglio ci spostiamo questa volta su Amazon vi sto parlando di Amazon Warehouse che fa parte ovviamente di Amazon dove si vuole dare una nuova vita ai prodotti che vengono resi attenzione cosa importante ovviamente questi prodotti non sono rotti viene fatta un'attenta verifica che siano in condizioni accettabili ottime vengono infatti testati e guardati con attenzione per essere messi in vendita e qual è il pregio di Amazon Warehouse? è che all'interno ovviamente parlando di prodotti resi usati troviamo dei grandissimi sconti se comunque l'acquirente una volta arrivato al pacco non è soddisfatto può sempre fare il reso ad Amazon si possono trovare tantissimi manga scontati con sconti che possono arrivare anche al 60% e anche delle action figures dipende anche qui sempre un po' il tempismo con cui si arriva a questi prodotti per quanto riguarda i manga vi consiglio magari di acquistare se li trovate dei cofanetti perché spesso magari possono presentare una leggera ammaccatura sul cofanetto che ovviamente non va a rovinare i volumi in sé e poi comunque una volta che acquistate un prodotto da Amazon Warehouse Amazon vi dirà la dicitura di questo stato dell'usato può essere usato come nuovo, usato in condizioni accettabili e così via e spesso io ho preso prodotti da Amazon Warehouse che appunto erano praticamente nuovi all'interno si possono trovare anche nuovissimi volumi appena usciti con un grandissimo sconto c'è ogni tipo di manga non solo per la parte italiana ma anche per la parte inglese e le omnibus e le complete edition inglesi si possono trovare ad un prezzo anche molto basso il quarto e il quinto consiglio possono sembrare scontati ma a mio parere non lo sono il quarto è chiedere sempre in una fumetteria se è presente il reparto dell'usato perché spesso le fumetterie mettono a disposizione un buon reparto dell'usato bisogna ovviamente chiedere se non è esposto a vista però non si sa mai che all'interno si possa trovare qualche manga in particolare io per mia esperienza soprattutto a Milano ho sempre trovato nelle fumetterie un grande reparto per quanto riguarda l'usato magari sono proprio le stesse fumetterie che non hanno esposto l'usato in negozio magari è in un altro magazzino quindi è sempre bene chiedere perché tante volte si possono trovare anche serie che sono complete il quinto consiglio è sempre un qualcosa di più fisico se ne avete la possibilità andate al libraccio e ai mercatini dell'usato ormai con Subito e soprattutto con Vinted si cerca sempre meno di andare fisici a cercare i manga usati però all'interno del libraccio all'interno dei mercatini dell'usato si possono trovare delle offerte che sono clamorose e questo riguarda ogni tipo di libraccio dato che ormai posseggono un grandissimo reparto dei manga e dell'usato serie di ogni tipo volumi che possono servire serie complete sempre scontate al 50% a mio parere uscire dal libraccio a mani vuote è praticamente impossibile perché ogni volta che si va c'è sempre un qualcosa di nuovo vengono messi sempre altri prodotti perché c'è una grandissima quantità di persone che appunto va a vendere al libraccio e ai mercatini per quanto riguarda gli sconti sui mercatini c'è un'altra prassi però se avete un libraccio in zona dei mercatini in zona andateci che potete trovare davvero delle grandi offerte rispetto poi ad anni fa ultimamente per quanto riguarda i manga venduti al libraccio usati si possono trovare sia sequenze manga ovviamente datati ma anche tantissimi manga appena usciti tante volte si trovano volumi addirittura usciti la stessa settimana per le case editrici che ovviamente si possono trovare al 50% quindi per questo video sui consigli dei manga usati è tutto io spero che questo video vi sia servito mi raccomando fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e se volete anche voi dare qualche consiglio per quanto riguarda l'usato in generale sempre tanto apprezzato lasciate come sempre un mi piace, un commento e per i nuovi iscrivetevi al canale per i prossimi video noi ci vediamo al prossimo video